Il Circolo Lega Ambiente Stella Maris di Agropoli per l'anno 2019 ha programmato diverse iniziative che intende realizzare con due obiettivi strategici, l'educazione ambientale e la tutela dell'ambiente. Per questo riteniamo fondamentale il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria, degli studenti delle scuole superiori e l'attività sportiva ecosostenibile, fanno sapere. Abbiamo previsto un'intensa attività di trekking uscita in canoa, durante le quali effettueremo anche la pulizia dei sentieri, della costa e un'azione di monitoraggio ambientale nell'ambito del progetto Lega Ambiente Nazionale, volontari per natura. Il programma fino al mese di luglio è il seguente. 18 febbraio, liceo scientifico Gatto di Agropoli, trasmissione documentario domani e dibattito sull'economia circolare. 2-14 marzo, monitoraggio e pulizia sentiero da Trentova a Scogliera di Pastena, con gli studenti del liceo scientifico Gatto di Agropoli. Fine marzo, insieme al Circolo Lega Ambiente di Torchiara, primazione all'unni in scuola primaria San Marco, che hanno partecipato al bando Chi albero sei, nell'ambito della festa dell'albero. 6 aprile, trekking e pulizia sentiero da Cetara Arraito. 12 maggio, trekking e pulizia sentiero, in collaborazione con CAI Salerno e Napoli, da San Marco di Castellabate ad Ogliastro Marina. 24, 25 e 26 maggio, spiagge pulite, con all'unni e studenti per liberare le spiagge e fondali dai rifiuti abbandonati. 1-2 giugno, nell'ambito dell'iniziativa e giornata dei cammini, in collaborazione con Vienna Camarota Guidae Gai. Due giorni di trekking uscita in canoa, per pulizia sentiero e costa da Agropoli a Santa Maria di Castellabate. Nel mese di luglio, data da definire, ve le spiegate, progetto di volontariato e monitoraggio scientifico, per accogliere e monitorare i rifiuti marini nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni. Sempre nel mese di luglio, data da definire, ricicla estate, campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. E infine, sempre nel mese di luglio, seconda edizione di Festa Ambiente, in collaborazione con l'Associazione Mediterraneo Marichunisce, due giorni di dibattiti sull'economia circolare, promozione della dieta mediterranea e dei prodotti slow food.